C'è una classifica che non fa onore alla Calabria al quarto posto per numero di variate ambientali. Il rapporto Ecomafia 2018 e Lega Ambiente è una fotografia fedele di quanto avviene nel nostro paese dove nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa si concentra il 44 per cento delle violazioni in materia ambientale dell'intero territorio italiano. Un business che aumenta di anno in anno fruttando alle organizzazioni 14 miliardi di euro. Purtroppo gli illeciti e gli interessi dell'Andrangheta sono tanti pervade tutto il sistema economico calabrese dai rifiuti alla depurazione come ci raccontano le varie inchieste delle varie procure della Calabria. Il settore dei rifiuti è l'ambito più interessato dal fenomeno. L'abusivismo edilizio con 17 mila costruzioni illegali, le filiere agroalimentari e il racket animale, gli altri scenari che in Calabria fanno lievitare il numero degli illeciti annui a 2809 e il 2017. Le Ecomafie attecchiscono e si nutrono di corruzione. Il dato che a noi preoccupa di più è la pervasività dell'Andrangheta nelle istituzioni perché la notizia dello scioglimento per infiltrazione mafiosa di alcuni consigli comunali come quello di Crucoli e di Casabona in provincia di Crotone ci preoccupano perché vuol dire che l'Andrangheta non bussa più alla politica per corrompere, per fare guadagni facili e illeciti ambientali ai danni del territorio e della salute dei cittadini ma è l'Andrangheta stessa che si fa istituzione. Da questo punto di vista c'è un forte contrasto da parte delle procure, da parte delle forze dell'ordine però c'è una società civile silente. Il reato ambientale è un seme che genera rischi e danni per la collettività nel presente e proiezione futura. Magistratura e forze dell'ordine contrastano il fenomeno. Le inchieste avviate dalle procure sono state 614 nel 2017 contro le 265 dell'anno precedente. Bisogna sempre ricordare che un reato ambientale crea un danno al territorio, crea un danno alla collettività per cui prevenire e reprimere questi reati aiuta la collettività a riemergere, aiuta il territorio a migliorare. Questo è il nostro impegno in Calabria come in tutta Italia. È chiaro che deve essere forte il coinvolgimento dei cittadini e devo dire che per fortuna è migliorato progressivamente migliorato quello dell'apporto e la sensibilità dei cittadini su queste tematiche.